Buonasera, ben ritrovati con lo spazio informativo di Café TV 24 in questo sabato 20 novembre. La Giunta regionale del Veneto ha approvato la delibera a favore degli artigiani del vetro di Murano, una delibera che stanzia un fondo regionale da 3 milioni di euro, contributo che permetterà così a molti artigiani di salvare il futuro della propria azienda, minato anche dal caro gas, insomma dagli aumenti in generale appunto dei costi energetici. Il piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima, cosiddetto PAISC, che rappresenta l'impegno che la città di San Donati Piave si è assunta verso la comunità europea per la riduzione delle emissioni di CO2, può contare oggi anche su un altro valido strumento di sensibilizzazione e di comunicazione. Si tratta di un video che si trova online nel sito web dell'amministrazione pubblica san donatese, un video di sintesi. E adesso invece parliamo della tredicesima, la tredicesima in arrivo, per i pensionati la potranno ritirare già giovedì prossimo, per gli altri invece sarà in conto del primo di dicembre, comunque per i dipendenti pubblici e privati l'importo verrà accreditato entro Natale. Ma quanto viene tassata la tredicesima? L'ufficio studi della CGA ha fatto i conti e a far festa sembra che sia proprio l'erario. I beneficiari incasseranno un aumentare lordo pari a 45,7 miliardi di euro, a questo importo però si devono sottrarre 11,8 miliardi di euro di ritenuta IRPEF, che finiranno appunto nelle casse del fisco. Nelle tasche degli italiani rimarranno così 33,9 miliardi netti. Una parte di queste mensilità sarà spesa poi sicuramente nel mese di dicembre per pagare il saldo degli mutasi, ma auspica la CGA che una parte venga anche utilizzata per rilanciare i consumi natalizi. Sentiamo. Si spera che a festeggiare la tredicesima siano anche i beneficiari. Una buona parte di questa mensilità, infatti, sarà spesa per pagare la rata del mutuo, le bollette, il saldo del limo della seconda casa, ma è altrettanto spiccabile che la rimanente parte venga utilizzata per rilanciare i consumi, acquistando i regali natalizi nei piccoli negozi e nelle botteghe artigiane. E a 90 di Piave è partito un progetto dal titolo Cresciamo Insieme Sport per Tutti, che ha unito l'unità locale socio-sanitaria LUS 4 Veneto Orientale con il 90 di Piave Designer Outlet. E 50 ragazzi residenti nel territorio del Veneto Orientale in situazioni di fragilità potranno così giocare a rugby, a calcio, potranno nuotare e poi ancora potranno praticare il volley e fare patinaggio. Insomma, un impegno sociale è quello del gruppo MacArthur-Glen, che include anche altri progetti, come la piantumazione di un'area di 15.000 m2 a 90 di Piave e il sostegno al Teatro La Fenice di Venezia. Un progetto che ha unito il pubblico con il privato, ma sentiamo le nostre interviste. Sono tutte iniziative che quando sono rivolte al territorio, al benessere di soggetti che vivono situazioni problematiche, sono situazioni per le quali ci piace intervenire, essere presenti e dare il nostro contributo a un territorio a cui siamo molto affezionati e anche a cui dobbiamo la possibilità di poter fare quello che stiamo facendo. Sì, tutti gli sport insegnano principi quali la disciplina, l'impegno, la correttezza, l'onorare, tutta una serie di cose. Per cui voglio dire, da noi c'è oggettivamente una promiscuità, forse che in altri sport non c'è, per cui forse sono ancora più importanti determinate caratteristiche. Però lo sport è positività, inclusione, integrazione per qualsiasi tipo di scelta che tu possa fare, per cui sì, che sia rugby, che sia pallavolo, che sia nuoto, calcio, pattinaggio, i colleghi che sono qui con me oggi, va benissimo tutto, l'importante è che le persone che come me gestiscono e hanno il piacere, l'onere anche enorme di portare avanti questo tipo di attività, finalmente troviamo una mano tesa da parte di istituzioni e di gruppi che possono essere così importanti, che hanno la sensibilità di capire e che mi auguro possono anche loro farsi carico di determinate difficoltà e si rendano conto di quello che possiamo affrontare anche noi quotidianamente nella gestione di una moltitudine di ragazzi, ripeto, rugby o non rugby. Sì, credo che sia veramente la prospettiva alla quale tutte le aziende sanitarie devono guardare, i rapporti con il territorio, col volontariato, con il privato, profit o no profit, con il mondo dello sport come in questo caso. Una grande opportunità, un progetto che riguarda i ragazzi fragili seguiti dai nostri servizi che potranno, grazie a queste borse di studio, accedere e fare sport perché comunque ci sono dei costi da sostenere senza pesare sulle famiglie che spesso hanno difficoltà a poter garantire questa opportunità che invece deve essere un'opportunità per tutti. Lo sport è con la famiglia e la scuola un momento irrinunciabile per i ragazzi, non solo per il benessere fisico anche in termini di sviluppo, di salute fisica in generale, ma perché è un momento di aggregazione, di contatto con i pari, di rapporto con adulti significativi che sono gli allenatori, i coach che hanno questa funzione anche educativa e quindi è sicuramente tra virgolette terapeutico in senso positivo perché aiuta soprattutto i ragazzi con fragilità ma in generale tutti i giovani che oggi fanno anche fatica a comunicare e a rapportarsi con gli altri perché lo sappiamo, l'utilizzo degli smartphone, della rete spesso sostituisce il rapporto diretto. Nello sport non c'è il telefonino, non c'è il smartphone che tenga, c'è il dialogo con le persone e quindi è un patrimonio importantissimo al quale nessuno dei nostri ragazzi e ragazze possono rinunciare. Sì, una realtà che, come doveroso che sia direi, è attenta alle esigenze del territorio e cerca di declinarle, contestualizzarle nel modo più utile al territorio stesso. In questo caso abbiamo intrapreso questo viaggio, questo nuovo viaggio perché non è il primo, assieme a ULS4 e assieme ai favolosi partner del terzo settore della nostra comunità sportiva territoriale all'insegna dell'attenzione per il pubblico più giovane e quindi una popolazione di ragazzi che vivono in condizioni di fragilità che potranno beneficiare di un sostegno economico per l'avviamento o per la continuazione delle attività sportive in un momento particolarmente delicato per tutta la popolazione giovanile e ancora di più per questi ragazzi che vivono in condizioni particolari. Sì, 90 di Piave Designer Outlet, in segno di continuità e di rispetto di quelle che sono anche le indicazioni e il sentito della nostra azienda tutta, vuole essere attenta al territorio e lo fa in tanti modi. Lo fa con un'attenzione al mondo della cultura, lo fa con un'attenzione al mondo dello sport, lo fa con un'attenzione alla popolazione di persone che lavorano all'interno dei nostri centri e quindi insomma cerchiamo di fare il nostro dovere e nel nostro piccolo di poter dare un contributo affinché i benefici della nostra presenza nel territorio non si declinino soltanto in chiave economica ma anche sociale. Fra i maestri pasticceri scelti per partecipare alla decima edizione di una mole di panettoni in programma il 4 e il 5 dicembre a Torino ci sono anche Giovanni Albieri della pasticceria Le Dolcezze nella provincia di Rovigo e Luca Stellini di Piccole Tentazioni in provincia di Padova. La Kermess che li vede impegnati è un punto di riferimento per tutti i pasticceri e quindi aspetteremo di vedere e di assaggiare anche il panettone migliore del 2021 e intanto un in bocca al lupo ai nostri pasticceri. Essendo una tese passiamo adesso invece alla cronaca, è stato arrestato al termine di un'operazione diretta dalla Procura di Venezia che ha anche fatto sequestrare 4 kg di Ascis e 10 kg di marijuana destinata allo spaccio del Basso Piave. Il valore stimato supererebbe i 200.000 euro. La spedizione della droga dalla Spagna è stata scoperta con le ordinarie attività di controllo aeroportuali. La Procura ha poi disposto una consegna cosiddetta controllata che ha permesso alla sezione specializzata del GICO di raccogliere gli elementi per individuare i destinatari della spedizione, arrivando fino al Sandonatese poi arrestato. Ancora cronaca, a Ceggia è stato chiuso un centro massaggi. I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Venezia con i militari della stazione Carabinieri di Sandonati Piave e la polizia locale di Ceggia hanno infatti rilevato situazioni di lavoro in nero e violazioni in materia di sicurezza. Nel centro massaggi, gestito da un cittadino straniero di 48 anni, lavoravano anche due donne, anch'esse cittadine straniere e in qualità di massaggiatrici. L'attività è stata sospesa e sono state combinate sanzioni per complessivi 30.000 euro. E adesso per finire gli appuntamenti sportivi. Per quanto riguarda il basket, domani al Tagliercio la Reyes sfiderà a Trieste. Inizio ore 17, partita valida per il campionato italiano. Mentre per il calcio Serie A, il Venezia giocherà nel campo del Bologna. Il Venezia nel suo momento migliore da inizio stagione, in meno di un mese sono arrivate due delle tre vittorie della squadra di Zanetti, tra cui ricordiamo anche quella più importante con la Roma, mentre il Bologna aveva convinto vincendo contro la Sampdoria e contro il Cagliari. Fischio di inizio domani ore 17. Questa era l'ultima notizia, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento ancora qui con tutti i nostri programmi, i programmi di Cafetti V24 e intanto vi auguro anche un buon fine settimana. Grazie, arrivederci. Grazie.